Gentili telespettatori, buona giornata. Tutti al mare. Balneari, c'è la soluzione per le spiagge, insomma. Allora, il governo non vuole accettare che l'Europa chieda la liberalizzazione del settore dei balneari, perché oggi il settore dei balneari non è libero. Viene assegnata una spiaggia, si paga una cosa simbolica, quella spiaggia rimane a te e ai tuoi discendenti per l'eternità, praticamente. Chi è che ha sbagliato? Hanno sbagliato i balneari? No, ha sbagliato chi ha dato queste concessioni praticamente eterne, a pochi soldi. Anche Briatore, che è proprietario di uno stabilimento balneare assieme alla Sant'Anché, ha detto chiaramente che non devi fare più cadere le cose per terra. Ha detto chiaramente che bisognerebbe pagare di più. Bisognerebbe pagare di più perché quello che si paga per i canoni è assolutamente simbolico. Ecco, Briatore dice io dovrei pagare almeno 100.000 euro all'anno, anzi forse anche mezzo milione all'anno, 500.000 euro di canone, perché lui ha uno stabilimento di lusso molto grande dove ha addirittura 150 dipendenti, una specie di mega azienda sulla spiaggia dove guadagna un sacco di soldi e il canone che paga è una roba simbolica che neanche se ne accorge. Ecco, questo per farvi capire che anche un grande imprenditore dice dovremmo pagare di più. Ecco, l'Europa dice o liberalizzate il settore o vi blocco i soldi del PNRR. Il governo dice ma mica c'è scritto dei balneari nel PNRR, ma cosa state dicendo? E l'Europa risponde allora non c'è scritto la parola balneari ma c'è scritto liberalizzare tutti i settori e se voi non mi liberalizzate tutti i settori compreso i balneari vi blocco li sordi. E' chiaro stufato? You understand? Ecco, adesso l'hanno afferreto. Allora il governo dice vabbè ma facciamo delle proposte. L'Europa dice un sepole no le proposte dovete liberalizzare, liberalizzare, non fare proposte alternative. Liberalizzare significa liberalizzare. Ecco. Ma dicono dobbiamo sottoporre un ventaglio di proposte serie all'Europa e l'Europa risponde l'unica cosa seria che dovete liberalizzare. Come ve lo dobbiamo dire? Nel 2010 l'Italia ha recepito la direttiva Bolkstein, sembra tipo Frankenstein, la direttiva Bolkstein. Bene, con questa direttiva Bolkstein, non lo so esattamente come si pronuncia, l'Italia dice beh, visto che abbiamo recepito sta direttiva nel 2010, allora liberalizziamo le spiagge date dal 2010 in poi. Quelle dal 2010 andando indietro no. E l'Europa dice Ancora, dovete liberalizzare il settore. Avete promesso in campagne elettorali ai balneari, siamo con voi, mai! Poi si va a governare e si capisce che o liberalizzi il settore come è giusto che sia, perché è giusto, non è sbagliato, è giusto, oppure ti blocco gli sordi. E se ti blocco i soldi sono tanti, molti soldi. Allora il governo cambia idea. Sì, liberalizziamo, ma facciamo quelle dopo il 2010. L'Europa dice un sepole, un sepole. E così Riccardo Zucconi, che da anni segue il dossier per Fratelli d'Italia, indica la strada da percorrere alla luce dell'invito ad intervenire, arrivato dal Presidente della Repubblica. Perché il Presidente della Repubblica, con l'ultimo decreto mille proroghe, dove dentro c'era la proroga, quindi si andava avanti, come dire, balneari dopo vediamo nel mille proroghe, Mattarella dice, la Costituzione mi dà il potere di fermare e di bloccare questo decreto mille proroghe, così non potete ancora posticipare la liberalizzazione del settore. Però non lo faccio, dice Mattarella, perché bloccando il mille proroghe vi vado a bloccare tutto quello che c'è dentro il mille proroghe, e vi crea un casino non indifferente. Allora, signorilmente, non ve lo blocco, lo firmo, ma voi dovete subito liberalizzare il settore dei balneari. Quindi Sergio Mattarella è stato assolutamente non chiaro, chiarissimo, come dire, fatelo subito, punto e basta. Ma il deputato Zucconi pensa davvero che la Commissione europea accetterà questa soluzione? E lui dice, penso proprio di sì. Io vi dico, magari mi sbaglio, penso proprio di no. Perché l'Europa dirà, liberalizzare, significa liberalizzare, non prima del 2010, dopo il 2010, perché non è che puoi liberalizzare un settore a metà, no? Non è che puoi dire, adesso faccio una riforma per le tabaccherie, ma solo per le tabaccherie dopo il 2010, quelle prima del 2010 vanno con delle leggi e dopo il 2010 vanno con altre leggi. Quindi, ad esempio, sui balneari, fino al 2010 lascio la casta, dal 2010 in poi metto altre regole. Quindi tu, balneari, che ricevi lo stabilimento nel 2012, paghi cinque volte il canone. Tu che l'hai preso nel 2009, mi dai una roba simbolica, ma dammi quello che vuoi. Beh, vi sembra che l'Europa possa accettare un qualcosa che è peggio? Perché se tu crei una casta, è una casta. Tutti sono all'interno della casta. Ma è ancora peggio se tu dici una parte rimane casta e una parte ha delle nuove regole, perché stai facendo addirittura discriminazione. Prima, con la casta totale dei balneari, non discrimini nessuno. Tutti hanno dei vantaggi, tutti pagano simbolicamente, e il governo, lo Stato, ha dei mancati incassi enormi. Ma se tu mi vai poi a discriminare tra balneari prima del 2010 e balneari dopo il 2010, stai peggiorando la situazione, stai dicendo all'Europa, io prima di una tercera data lascio la casta e dopo liberalizzo, così discrimino, cioè vai a peggiorare le cose. Ma il deputato Zucconi dice «Penso proprio che si possa fare». Questa soluzione era già una proposta di legge del 2018 che aveva come seconda firmataria Giorgia Meloni. Poteva averla firmata anche il Pontefice Massimo, il Santo Padre, ma questo non vuol dire che se la firma Tizio Caio o Sempronio, poi l'Europa dica di sì. Bisogna avere anche un po' di logica in quello che si dice e in quello che si pensa. È possibile andare a perdere tempo per andare a proporre una roba in Europa che non può essere accettata da nessuno, ovviamente? Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.